Terzo protone, formato da una rappresentanza dei comandanti di stazione del comando provinciale di Taranto. Quarto protone, formato da rappresentanze delle specialità dell'arma che operano nel territorio Ioni, carabinieri forestali, carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità NAS e del nucleo ispettorato del lavoro, carabinieri polizia militare per la marina e per la aeronautica, carabinieri attenti alle investigazioni scientifiche, carabinieri di quartiere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! La cerimonia sta per iniziare. I signori ospiti sono pregati di prendere posto. Fanno ingresso i confroni della provincia di Taranto e dei comuni di Castellaneta, mangiando a Sabra e Taranto, dove hanno sede le compagnie carabinieri della provincia. a Sabra e dei comuni di Castellaneta, Viene data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. Nel giorno in cui l'arma dei carabinieri celebra il 200 decimo anniversario della Fondazione, la bandiera di guerra riceverà la dodicesima medaglia d'oro al Valor Civile, a testimonianza del lungo percorso compiuto sin dalla nascita dell'Unità d'Italia e da quel momento protagonista nei passaggi che hanno caratterizzato la storia del Paese. Desidero anzitutto rivolgere un riconoscente pensiero alla memoria di tutti i carabinieri che in patria o fuori dai confini nazionali hanno perso la vita nell'adempimento del dovere e un deferente saluto alla bandiera. Il momento storico che l'Italia e l'Europa stanno vivendo sollecita più che mai i valori di fedeltà alla Repubblica e di ammregazione di cui l'arma ha sempre saputo essere interprete. La sfida alla pace, la tutela delle libertà della nostra convivenza civile vedono i carabinieri operare nella duplice proiezione, da un lato nelle crisi internazionali, dall'altro nel presidio offerto sul territorio nazionale dalla rete delle stazioni. La lotta alla criminalità organizzata, essenziale per la garanzia della legalità, concorre in modo significativo alla coesione della società italiana. Sono tutti i campi che reclamano esigente impegno per le donne e gli uomini dell'arma. Nel manifestare a tutti i carabinieri il servizio in congetto, i sentimenti di gratitudine della comunità nazionale, formulo in questo giorno di festa a voi e alle vostre famiglie i più fermi di autore. Viva l'arma dei carabinieri, viva le forze armate, viva la Repubblica. Sergio Maddarello Al prossimo episodio Grazie a tutti.